Si è svolta nel giorno dell'Epifania la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori dell'ottava edizione del concorso Aurelio Marcantoni. Il premio che si propone di ricordare e onorare la memoria di Marcantoni, giornalista della Nazione e socio fondatore della società storica retina. Scomparso a soli 44 anni, è organizzato congiuntamente dalla società storica retina, dalla redazione di Arezzo del quotidiano La Nazione e è riservato ai giovani nati dopo il 1 gennaio 1981 autori di tesi di laurea sulla storia politico-istituzionale della Toscana e sulla storia del territorio aretino. I giovani sono molti e vengono da tutte le università italiane e naturalmente sono presenti sia i vincitori che alcuni dei premiati, che alcuni dei partecipanti. Chi sono i giovani vincitori e perché sono stati scelti? Ripeto, le sezioni sono due. Sono stati scelti analizzando i loro lavori approfonditamente e anche guardando alla rispondenza a ciò che era richiesto dal bando. Il primo premio per la sezione toscana è andato ad Alessandra Roggi con una tesi di dottorato discussa all'Università della Sapienza di Roma. Il secondo premio a Domenico Uccellini che ha fatto un lavoro sull'opinione pubblica nel 500, in particolare durante il granducato di Cosimo I dei Medici. Per la sezione riguardante il territorio aretino i premiati sono Serena Olivieri che ha curato l'edizione di uno scritto di Poggio Bracciolini e il secondo premio è andato a Nicolò Patrone con una tesi magistrale che si è occupato dei poeti aretini del 200. La giornata stavolta è stata anche nel nome di Massimo Benigni, storico giornalista del quotidiano La Nazione e collaboratore di Arezzo TV. La commissione ha poi ritenuto opportuno istituire un premio speciale dedicato alla memoria di Massimo Benigni che è stato per molti anni uno dei promotori del premio, che è scomparso mentre il premio era in corso, che andrà a Maria Grazia Bazzaretti. Lui è stato uno dei primi insieme ad altri a creare questa cosa. E quella città continua a ricordare Massimo Benigni? Sì, io lo sento ogni tanto, anzi mi chiamano perché magari mi sfugge qualcosa, però sì, lo ricordano tanti.